Allora, Ministro, una sua impressione su questa visita in comunità, come le sembra? Qual è la sua emozione? Ma io le dirò che ho avuto due reazioni, una di natura sentimentale e una di natura razionale. Sotto il profilo sentimentale dirò quello che vi sarete sentiti dire tante volte da tante persone. È un'emozione grandissima. È l'emozione di una vita che riprende, di vite spezzate, che trovano la forza di continuare. Entrare in quella sala di pranzo nella quale c'era quella folla di persone sofferenti, che la vita ha provato in vari modi e che hanno trovato la forza nella comunità e nell'insieme di riprendersi, veramente produce una straordinaria emozione. Non immaginavo che fosse così forte. La seconda reazione è di tipo razionale, cioè vedere la professionalità con la quale tutto questo viene fatto. La professionalità nei metodi che vengono seguiti, la professionalità nell'approccio con queste persone, la diversificazione dell'approccio con ciascuno di loro, il modo di affrontare i problemi e di cercare di risolverli, il modo con il quale tutto viene organizzato. Questa è una straordinaria esperienza di organizzazione. Io credo che anche un imprenditore potrebbe essere interessato a questo modello, perché organizzare tutto quello che viene organizzato qui, a San Patrignano, che va dalla coltivazione degli olivi alla produzione dell'olio, al contatto con la cultura, che si vede qui, proprio in queste sale, in questo centro studi, sia estremamente complesso, difficile e che richieda grandi professionalità. Ministro, lei sa che San Patrignano da tanti anni, da 80, accoglie i ragazzi con misure alternative al carcere. Lei cosa ne pensa? Perché questa è un'attività a cui noi teniamo molto e che facciamo da tanto tempo. Abbiamo un'altra cosa in comune, perché ci tengo molto anch'io, perché credo profondamente che le misure alternative siano la vera soluzione del problema della pena. La pena deve essere certamente per qualche verso sofferenza, perché bisogna pagare per gli errori che si sono commessi, ma deve essere anche un modo per ritornare alla vita, un modo per redimersi, un modo per reinserirsi, un modo per risocializzare. E certamente tutto questo il carcere non lo darà mai. Il carcere non è adatto per rieducare. Mentre le misure alternative alla detenzione lo sono, e voi con questa esperienza straordinaria lo dimostrate in maniera chiarissima. Occorre lo sforzo sia di chi prepara alla misura alternativa, sia di chi la subisce e ne partecipe. Ma questo sforzo viene premiato. Anche io ho avuto esperienze di persone che sono state condannate a pene alternative e che hanno trovato nella pena alternativa un modo per ritornare pienamente nella società. Questo naturalmente vale soprattutto per i minorenni, per i quali il poter riprendere un cammino sociale rappresenta uno spazio, una prospettiva per la vita. E dunque questa prospettiva deve essere percorsa pieno, deve essere percorsa ogni qualvolta sia possibile farlo, deve essere percorsa con molta forza, con molta tenacia e con quel profondo credo che io ho visto qui dentro. E cioè il credo che l'uomo ce la possa fare, che si possa cadere negli errori, prima che ci sia anche la forza di riprendersi, di redimersi e di ricominciare un cammino di vita nella società.